Buongiorno, bentrovati, appuntamento di Mattino 6. Il primo della settimana di lunedì 11 aprile 2016, apriamo come di consueto con il Santo del Giorno, una santa che viene ricordata dalla Chiesa Cattolica proprio nella giornata dell'11 aprile. Si tratta di Santa Gemma Galgani che nacque a Camigliano di Lucca il 12 marzo del 1878 da Enrico Galgani e da Aurelia Landi, a me due ferventi cristiani. La buona madre sembrava che presentisse la sua vicina morte, perciò quando poteva stare con la cara bimba le spiegava la verità della fede, i pregi dell'anima, la bruttezza del peccato. Gesù aveva prescelto Santa Gemma Galgani e la voleva santificare attraverso vie straordinarie facendola partecipe dei suoi dolori ed attirandola a sé mediante vincoli di amore ineffabili. Il 17 giugno del 1897, festa del Sacro Cuore di Gesù, fece la sua prima comunione, non entrò in religione quantunque lo desiderasse, ma guidata prodigiosamente dalla provvidenza divina, dopo dolorosissime prove, fu ricevuta dalla famiglia Giannini nella città di Lucca e qui visse fino alla morte. A Lucca cominciò la sua serie di grazie, Gesù non si lasciò vincere in generosità tutti i venerdì, infatti Gemma soffriva i dolori della passione del Signore e nel 1899, due anni dopo la sua offerta col voto di perpetua verginità, fu favorita del dono delle stimmate, con questo resa più partecipe dei dolori di Gesù, raggiunse in breve il più alto grado della mistica. Diceva con San Paolo, oggi non sono più in me, sono col mio Dio, tutta per lui ed egli è tutto in me e per me. Godette anche della confidenza del suo angelo custode, il quale la liberò da molte tentazioni e portò perfino la sua corrispondenza al padre Germano, suo direttore spirituale. Il demonio la perseguitò sotto svariate forme, persino abberendole nella persona di Gesù appassionato. La grazia però di cui era favorita le fece sempre discernere i moti del maligno da quelli dello spirito buono, consumata più dalle fiamme del divino amore che dalla malattia. Se ne volava al suo celeste sposo l'11 aprile del 1903, giorno della vigilia di Pasqua. Santa Gemma Galgani che viene ricordata oggi dalla Chiesa Cattolica. Noi apriamo il nostro appuntamento il primo della settimana con la consueta rassegna stampa, partendo dalle edizioni del quotidiano Il Centro. Iniziamo con l'edizione di Pescara del quotidiano d'Abruzzo. Il titolo di apertura è dedicato alla politica e anche all'ambiente in un certo senso perché si parla di rifiuti. Perché alla Deco vanno i rifiuti di 18 comuni. È stata assegnata la maxigara per la discarica. Pescara risparmia 200 mila euro. La fotonotizia riguarda quanto accaduto ieri pomeriggio sull'autostrada 14 fra i caselli di Pescara Nord e Pineto nella galleria Solagne. Ancora una volta un mezzo pesante in fiamme. Grossi disagi per il traffico. Autostrada chiusa per oltre tre ore con inevitabili disagi anche lungo la strada statale 16 Adriatica, proprio tra Pescara e Pineto. Poi nel tardo pomeriggio la situazione con la riapertura dell'autostrada è tornata lentamente alla normalità. Vediamo nelle cronache. Sempre Pescara, alberi tagliati, politica e amore, scoppia il caso. Poi sfida a Banca Italia, carichieti ricorso contro gli espropri e poi lo sport. Parlando del Pescara, reduce dalla vittoria per certi versi entusiasmante di Avellino in grande emergenza per otto assenze. In evidenza il portiere Biancazzurro, Aresti, Aresti super sulle note di sei un mito. Vedete nella foto l'estremo Biancazzurro. E poi l'ultima notizia che riguarda il Serpentone. Un altro stop, quest'opera che dovrebbe aggirare con le acque del fiume Pescara, la diga foranea. Capitaneria scettica, dunque sulle barriere anti-veleni in mare. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara. Andiamo a vedere insieme la prima pagina, edizione di Chieti, Lanciano, Vasto. In questo caso vedremo dunque qual è la notizia principale. Una notizia che tra l'altro non riguarda solo la nostra regione, è una notizia di cronaca. Perché si è costituito e ha confessato al Lanciano l'omicida del cuoco di Cervia. L'ho ammazzato per difendermi, è stato ascoltato questa notte questo giovane che avrebbe ammesso le sue responsabilità. E poi lo sport, in questo caso si parla del Chieti che ieri pomeriggio al Guido Angelini ha battuto per 3-0. La Miternina Tris per i Neroverdi, che continuano comunque a sperare nei play-off, nonostante l'obiettivo sia piuttosto difficile da raggiungere. Per la formazione aquilana della Miternina è quella di ieri. Probabilmente è stata la giornata decisiva in negativo, perché a questo punto le speranze di salvezza, ma anche di play-out degli aquilani, sono davvero molto ridotte. Servirebbe più di un miracolo alla Miternina per evitare la retrocessione. Poi vediamo le cronache, Carichieti al TAR, la fondazione lancia la sfida a Banca Italia, poi Lanciano in mille sfilano per dire no all'inceneritore. E poi ancora Chieti, furto da toto, l'indagine porta in Puglia. E lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Chieti, andiamo a vedere insieme l'edizione del centro di Teramo. Poi, come sempre, chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo. Qui il titolo principale riguarda, ovviamente, quanto accaduto ieri, proprio sul tratto della provincia di Teramo, della A14, proprio al confine con la provincia di Pescara, tra Pescara Nord e Pineto, tira a fuoco in A14, caos traffico e il quarto incendio in Galleria, nello stesso tratto da gennaio. E poi lo sport, si parla di basket della Serie A2, con Roseto, che ha battuto Ravenna, che ha messo in pratica i play-off in cassaforte. Un obiettivo davvero prestigioso per la formazione di coach Tony Trullo. E poi le cronache Teramo verso il referendum sulle bici nel 400, per dire no alle trivelle. E poi a Teramo, Fiera e Boom, chiude con 30.000 visitatori, numeri da record per la Fiera di Teramo. E poi ancora a Teramo, Later, in città arrivano nuove case popolari. E chiudiamo con la prima pagina del centro, edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Andiamo a vedere in questo caso quali sono i titoli principali. Si parla di sport, ma anche della città dell'Aquila. Vedete Bertolaso, Nocialente, lite sui crolli, balconi. L'Aquila accusa il comune, non fa manutenzione. Dunque c'è questa polemica. E poi lo sport, perché l'Aquila cappone il giorno del ricordo delle vittime del sisma. Vedete la foto del minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del terremoto dell'Aquila. Proprio nella giornata di ieri, a lungo Bisenzio di Prato, è arrivata una sconfitta pesante per il rosso-blu. 3-2, l'Aquila terz'ultima in classifica e da oggi squadra in ritiro con Perrone, che rischia l'esonero. Siamo poi alle cronache, in Marsica, a Cerchio, sorpreso a spacciare cocaina, arrestato, rivolta a Pizzoli, no a troppi migranti. Poi Sulmona, allarme tumori, uno studio sul territorio. Poi un'altra notizia che arriva da Vezzano, Liceo Croce, chiesti danni, lavori conclusi, ma il Tar approva il risarcimento. Lasciamo dunque le prime pagine del centro. Abbiamo visto le quattro edizioni del quotidiano d'Abruzzo. Possiamo andare a vedere insieme qualche pagina di cronaca nazionale del messaggero. E poi ovviamente, soprattutto nella seconda parte, parleremo di Abruzzo, parleremo di sport, parleremo ovviamente di quello che è accaduto ieri nella giornata sportiva, soprattutto calcistica, vedendo i servizi delle partite. Allora, prima pagina del messaggero. Vediamo i titoli principali. Renzi e PM, basta gossip. Questo è il titolo principale. Poi il caso Reggeni, il Cairo accusa l'Italia, caso sfruttato politicamente. E poi Grecia, lacrimogeni sui migranti. E poi insulti al colle, scivolone, del leader della Lega Salvini. Proseguiamo. Renzi, non tocco le intercettazioni, ma i PM evitino il gossip sui media. E poi il Premier non vuole scontri che mettano in crisi la ripresa. Questo è il titolo principale di pagina 3 del messaggero. Poi c'è un'intervista a Cosimo Ferri, rispettare le norme, le registrazioni non siano strumento di lotta politica. Proseguiamo. Si parla del caso Reggeni, l'Egitto dice caso politicizzato. Gentiloni, ministro insiste, dateci i tabulati. Il ministro, vengono usati in tutto il mondo per le indagini, le accuse del Cairo, tragedia sfruttata per questioni interne. Poi vedete più in basso, Roma, il Cairo, cultura e affari. Così si è interrotto un idilio. Ancora Roma, un piano in tre fasi e pressing diretto su Al-Sisi. La strategia per arrivare alla verità, fermezza, ma senza rompere. Con l'Egitto, scartata l'ipotesi delle sanzioni europee, sarebbero un boomerang. Proseguiamo. Le carte di Panama, Cameron in difesa. Ecco i miei conti. E giallo, donazioni. E poi usato il nome della Croce Rossa per nascondere il denaro sporco. Nuove rivelazioni sullo scandalo legato al giro d'affari dello studio Fonseca. L'inchiesta condurrebbe a Cristina Kirchner e al defunto marito Nestor. Siamo ovviamente in questo caso in Argentina. E poi politica nazionale. In primo piano la vicenda degli insulti al Presidente della Repubblica, Mattarella. Bufera sul leader della Lega, Salvini. Non vuole le frontiere, invita i clandestini complice. E venduto, dice. Ha detto Salvini, ma il Presidente aveva parlato solo di vini italiani e di esportazione. Critiche bipartisan. Al capo della Lega, Zanda del PD, dice. Un'eversore solidarietà dei Presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso. Il gelido silenzio del Quirinale. Le offese non meritano replica. Vedete nella foto il brindisi proprio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri all'inaugurazione, alla cerimonia inaugurale del Vinitali a Verona. Con il governatore del Veneto, Luca Zai. A proposito di Vinitali, poi vedremo anche un servizio che riguarda in questo caso la presenza della Regione Abruzzo a Verona al Vinitali. Proseguiamo. Scuola, 250 mila professori in fila per il trasferimento. Oggi parte la mobilità straordinaria prevista dalla legge sulla buona scuola. La maxioperazione sarà suddivisa in tre scaglioni fino al 30 maggio. E poi il fisco incassa 300 milioni con una lettera e il gettito recuperato inserito nel DEF grazie alle 220 mila missive inviate ai contribuenti. Non in regola, con la precompilata. Nonostante i quasi 15 miliardi ottenuti con la lotta all'evasione, nemmeno un euro andrà al fondo per il dettaglio delle imposte. Siamo alle primarie politiche negli Stati Uniti. Sanders non si ferma. Trionfo in warming. Continua la striscia di vittorie negli stati dell'Ovest per lo sfidante di Hillary Clinton. La partita decisiva si giocherà il 19 aprile a New York dove l'ex First Lady conta di fare il pieno di delegati. Vedete nella foto Bernie Sanders. Andiamo ancora avanti. La cronaca, l'ultima pagina del messaggero. Delitto Varani, VIP e politici. Nei file del telefono di Prato i tecnici stanno cercando di arrivare al video e alle fotografie dei festini del PR. Nella memoria scatti compromettenti sotto Torchio, Foffo arrestato insieme a lui. Dunque proseguono le indagini per il delitto Varani a Roma. Delitto che ha suscitato davvero grande commozione. Lasciamo le pagine del messaggero. Andiamo a vedere qualche pagina di cronaca nazionale del centro. Partiamo dalla polemica tra Salvini ed il Presidente della Repubblica. Bufera su Salvini che insulta Mattarella. Il leader leghista attacca il Presidente che parla di frontiere aperte. Ma si riferiva al vino. Poi una mezza retromarcia di Salvini. Gas e pallottole ai domeni. Centinaia i feriti in Grecia. E poi giustizia allo scontro. Renzi non toccherò le intercettazioni. Inchiesta petrolio. Leni vuole ripartire. Proseguiamo. Pagina 4. Conti offshore Cameron alla prova del Parlamento. Dopo le rivelazioni del Panama Papers, il Premier Pubblico ha tutti i suoi redditi. Continuano gli attacchi dei laboristi. Oggi la sua difesa alla Camera dei Comuni. E poi Ucraina si dimette. Il Presidente Arsenij Yasenjouk. E poi la vicenda Reggeni. Alta tensione tra Roma e il Cairo. Il Cairo che accusa Roma. Caso politicizzato. E poi la cronaca. Da Brindisi. Bimbo cade con la minimoto. Grave il piccolo di sei anni. Poi Grosseto. Abusi in un asilo nido. Tre maestre. Nei guai. Andiamo avanti. Siamo già però arrivati alle pagine d'Abruzzo del Codidiano Il Centro. Vi dicevo del Vinitaly. Abbiamo visto nelle pagine nazionali del Centro del Messaggero l'inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. L'Abruzzo al Vinitaly. Prodotti e strategie. La generazione smart dei nuovi vignaioli. Nella Fiera di Verona per la prima volta si assiste ad un passaggio generazionale nelle aziende storiche. Ma le nostre etichette non dimenticheranno mai le radici. Vedete le foto proprio della presenza delle aziende abruzzesi al Vinitaly. E c'è stato anche il premio di un ricordo. Valentini infatti fra i benemeriti della vitinicoltura italiana. E dunque grande successo per l'Abruzzo nei primi giorni del Vinitaly. Noi andiamo a vedere questo servizio che abbiamo realizzato proprio per la presenza della Regione Abruzzo e dei viticoltori abruzzesi proprio alla Fiera del Vino di Verona. Per l'Abruzzo un appuntamento importante. Oltre 90 cantine vinicole, oltre 23 aziende del settore olio che partecipano a questa edizione così importante per noi soprattutto per quanto riguarda l'export. Noi abbiamo appena pubblicato il primo bando della nuova programmazione comunitaria 14-20 proprio per quanto riguarda la promozione del settore agricole. Saremo di sostegno a tutto il comparto agricolo con questa nuova programmazione. Iniziamo dal Vinitaly di Verona. È un riconoscimento che dà conferma al riconoscimento al lavoro svolto non solo da me ma negli anni ma anche e soprattutto da mio padre e da mio nonno iniziati quindi tanti anni fa. La cosa particolare appunto a conferma di questo è che nel 1987 mio padre a 54 anni ricevette il Can Grande. Oggi io anche a 54 anni ho ricevuto il Can Grande. Quindi è una tradizione che si mantiene viva anche nel tempo. Il vino abruzzese negli ultimi 10-15 anni è risalito alla ribalta e la qualità è sempre in ascesa. In Abruzzo abbiamo dei vini eccezionali, degli ottimi vini e sono certo che nel tempo si affermeranno sempre di più sul mercato non solo nazionale ma mondiale. Abbiamo ascoltato l'assessore alle politiche agricole Pepe e poi l'imprenditore del vino Valentini. Ancora dalle pagine del centro si parla di banche. Il fondo interbanche costa 600 mila euro alla BCC abruzzese. Bilancio a più 578 mila euro approvato da 762 soci eccetto uno. In aumento prestiti e raccolta impegni anche nel welfare. Andiamo ancora avanti, siamo alla cronaca di Pescara del quotidiano Il Centro. Maxi gara per la discarica, la Deco tiene 18 comuni. Pescara-Montesilvano e i paesi limitrofi continuano a scaricare a Casoni sconto di 2 euro a tonnellata. Per il capoluogo vale 100 mila euro all'anno. E poi si parla di tasse in questo articolo di spalla sulla prima pagina della cronaca di Pescara del centro. In arrivo i bollettini dell'Atari per 60 mila contribuenti. Tassa su rifiuti via ai pagamenti. E siamo alla vicenda che riguarda il mare di Pescara. Capitaneria stop al serpentone. Il progetto va studiato meglio. Il comandante Moretti non esclude l'ipotesi che le barriere per ripulire il mare siano pericolose, ma avverte è difficile dare un giudizio su un disegno. Manca anche un piano di gestione. E poi cambiando argomento. NCD proteste per il cibo nelle menze scolastiche. Più in basso, il sindaco blinda l'ufficio con le telecamere. Il comune spende 1.200 euro per acquistare un sistema sofisticato di videosorveglianza e polemica tra la giunta Alessandrini e i consiglieri di minoranza del centro-destra. E siamo ancora a Pescara. Presso il secondo bandito della COAL, denunciato un pescarese di 25 anni, aveva una pistola ad aria compressa. E poi rudere sulla Riviera Nord. Il comune riapre lo scontro. L'ente ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza che ha bloccato la demolizione. Il proprietario dice che mi rivolgerò alla Corte di Giustizia europea. E poi nell'ex consorzio agrario, negozi e botteghe di artigiani. Parliamo dell'area di via del circuito. E poi polemica di Antonelli, consigliere di Forza Italia. L'anagrefe di Piazza Grue resta chiusa, senza preavviso. E poi in basso, assemblea dei donatori di sangue, la FIDAS approva il bilancio. E poi la prevenzione dell'osteonecrosi, chirurghi e oncologi incontrano medici e dentisti. Andiamo ancora avanti. Appalti del verde, politiche, amore e polemica per gli alberi tagliati. Foschi in un anno 35 mila euro di lavori alla ditta di un'assessora PD di Città Sant'Angelo, sposata con un agronomo del comune di Pescara di Giacomo. Tutto in regola, accuse strumentali. E poi in basso, raccolta di firme a spoltore, una petizione per Vernamonte. I residenti intitoliamo una struttura all'amministratore scomparso. E poi andiamo a Letto Manopello, una pista ciclabile di 70 chilometri sulle orme dei pastori. E siamo alla cerimonia che ieri mattina si è svolta nell'area della Camera di Commercio al Porto Turistico. Ingegneri, balneatori, gelatai e meccanici premiati, 55 lavoratori. I riconoscimenti della Camera di Commercio a imprenditori e dipendenti con 25 anni di attività. Due premi speciali, uno in particolare, vedete in alto, consegnato all'amministratore delegato della Proger, il dottor Umberto Sgambati, che vedete è stato premiato dal presidente della regione Luciano D'Alfonso e dal presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci. Andiamo a vedere il servizio proprio sulla premiazione che si è tenuta ieri al Porto Turistico di Pescara. Si è tenuta al Porto Turistico di Pescara la 35esima edizione del premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico, la Camera di Commercio di Pescara, che ha premiato consegnando un riconoscimento ai propri associati e anche ai dipendenti che hanno raggiunto i 25 anni di attività all'interno dell'ente camerale. È un messaggio di ottimismo far vedere che la piccola impresa italiana nel tempo cresce, va avanti, si ingrandisce portando ad esempio poi due realtà importanti del nostro territorio, come un'azienda internazionale di primo livello europeo come appunto Proger, pregata attraverso il suo amministratore delegato, l'ingegnere Sgambati, Pescarese Doc, e i maestri del lavoro che rappresentano in questo momento il punto d'esempio visto proprio dal punto di vista dell'impresa come sacrificio, come dedizione al lavoro da dare come messaggio soprattutto alle nuove generazioni. Ecco, il nostro tessuto imprenditoriale è un tessuto fatto proprio di queste figure, dell'impresa che vive il suo territorio, che assume all'interno del proprio territorio, di un'impresa che si tramanda da padre in figlio. Noi dobbiamo guardare a un mondo sicuramente che sta crescendo a dismisura, i nuovi mezzi telematici danno grandi prospettive e grandi potenzialità anche alle piccole imprese artigiane. Ma ecco, la storia, la tradizione, da dove veniamo è importante ricordarsene ed è importante mostrarlo come esempio, lo risottolino ai giovani. Noi cambiamo pagina, parliamo di meteo come ogni mattina nel corso di Mattino 6 con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, il cielo è sereno, questa mattina dalle nostre parti si preannuncia una giornata di bel tempo, sarà veramente così e poi ovviamente allarghiamo lo sguardo anche alle prossime ore, ai prossimi giorni, siamo all'inizio di settimana, cosa ci dobbiamo attendere dal meteo? Eh sì Paolo, si prospetta una lunga fase di tempo stabile, ma ne avevamo già parlato nei giorni scorsi perché dopo il peggioramento che ci ha interessato soprattutto nel fine settimana, sulla nostra penisola è tornato il bel tempo a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che nei prossimi giorni continuerà ad intensificarsi, quindi ad estendersi soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Nelle prossime ore avremo condizioni di bel tempo su tutta la nostra regione con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio sulle zone montuose. Per il resto bella giornata di sole, cielo limpido, non ci sarà più la sabbia africana in sospensione, non ci saranno neanche le nebbie lungo la fascia costiera, quindi sarà una situazione di bel tempo su tutto il territorio regionale con temperature in graduale aumento soprattutto nei valori massimi. Ma l'aumento più deciso lo avremo soprattutto nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì, anche se tra domani e proprio la giornata di mercoledì saranno possibili degli annuvolamenti, perché quando arriva l'aldiciclone africano porta con sé purtroppo degli annuvolamenti di nubi alte e stratificate, localmente anche miste a sabbia africana in sospensione. Ma questo è un classico, Paolo, quando ci sono le rimonte dell'alta pressione. E questa situazione, alta pressione africana ovviamente, questa situazione continuerà a manifestarsi anche nei prossimi giorni, probabilmente nel fine settimana, se la situazione sarà confermata, ma ne riparleremo nei prossimi giorni, le temperature subiranno un ulteriore sensibile aumento, anche sulla nostra regione con punte massime ben al di sopra dei 22-24 gradi su gran parte del territorio regionale. Paolo. Possiamo dunque parlare, Giovanni, di un anticipo d'estate a questo punto. Probabilmente sì, probabilmente sì, almeno alla luce dei dati attuali a nostra disposizione. Il caldo più intenso, probabilmente lo ritroveremo tra mercoledì e giovedì e successivamente, dopo una temporanea attenuazione, nel fine settimana. Ma ripeto, di questa situazione ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti. Perfetto, grazie. Grazie a Giovanni De Palma. Dunque queste le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni. Appuntamento con te, Giovanni, sempre domani nel corso di Mattino 6. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma, ma per restare sempre aggiornati in tempo reale vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org che potete consultare proprio per restare sempre aggiornati sulle previsioni del tempo che riguardano la nostra regione. Poi la pagina Facebook del nostro meteorologo. Utile strumento anche per interagire, perché non fare domande, togliersi curiosità proprio con Giovanni De Palma. Noi torniamo alla nostra rassegna stampa. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro. Si parla di banche, in particolare della Carichieti. In questo caso, fondazione contro Banca Italia. La sfida arriva all'ultimo atto. Ecco il ricorso al Tar del Lazio contro l'esproprio del patrimonio degli azionisti. Il 18 aprile la decisione sul decreto salva banche. E poi si parla di occupazione. Il Tales salta il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico dopo il forfè dei sindacati. E oggi, questa mattina alle 10.30 in Piazza Vico, ci sarà il confronto sul futuro reale della città. Poi la cronaca in basso, maxifurto alla Toto, indagini in Puglia. I carabinieri di Chieti inviano il filmato dei cinque ladri ripresi in azione ai colleghi di Cerignola. Dunque sospetti che si sia trattato di un'azione di malviventi giunti da fuori regione. E poi siamo a Lanciano. Si costituisce a Lanciano il giovane pugliese che avrebbe assassinato un cuoco di cervia. L'ombra del movente passionale. Sono l'omicida che cercate queste le parole che avrebbe pronunciato il giovane che si è costituito a Lanciano. Al magistrato Vecchi rivela sono rientrato alle 9.15 a casa. Lui mi ha aggredito con una mannaia. Io l'ho disarmato e poi l'ho colpito, ma volevo solo difendermi. Andiamo ancora avanti. Siamo alla pagina dell'Aquila. Del centro, le frasi della discordia. Bertolà Socialente, scontro sui balconi. L'accusa, i crolli. Colpa della scarsa manutenzione da parte del Comune. La replica, se fosse corretto, dovrebbe ritirarsi. E poi Salvini, questa mattina all'Aquila, conferenza e visita a Paganica, incontro a Palazzo Fibbioni. E poi Sassa, carambola nella notte, tre feriti schianto tra automobili dopo un'invasione di carreggiata. E poi Masterplan, se ne parla oggi, con D'Alfonso, consiglio comunale straordinario sullo strumento che deciderà le strategie. Per il capoluogo, siamo alla pagina di Teramo del centro, tira a fuoco sull'A14, traffico nel caos. Il rogo all'imbocco del tunnel Solagna-Pinetto, viabilità interrotta, chilometri di code ai caselli. E statale a Passo Duomo, presa d'assalto dagli automobilisti. In basso, i politici teramani, frammentati al vuoto. Nel PD c'è chi non si astiene. Nel centro-destra, Chiodi e Gatti per il sì, Tancredi e D'Ignazio per il no. Siamo arrivati allo sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine del Messaggero. Lo faremo tra qualche istante. Ora ci fermiamo. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6. Siamo alla prima pagina dell'inserto regionale d'Abruzzo del Messaggero. Tiri in fiamme, inferno in galleria. Pineto, camion di frutta, prende fuoco nel tunnel Solagna-A14, bloccata per tre ore. Poi Vinitaly, il premio Can Grande a Valentini. Lo abbiamo ascoltato qualche minuto fa nel servizio che vi abbiamo proposto. E poi era titolare di un bar a Roma. A sua insaputa va a chiedere il duplicato della tessera sanitaria. Scopre un retroscena incredibile. E poi, punti nascita, la resistenza di Sulmona. Andiamo avanti. Siamo alle pagine provinciali. Partiamo da Pescara. La Proger sbarca in Arabia Saudita. Premio all'orgoglio d'Abruzzo. Parliamo proprio della cerimonia in Camera di Commercio. Ieri a Pescara è stato infatti premiato, tra gli altri, con una menzione speciale, con un premio speciale, l'amministratore delegato della Proger, l'ingegner Sgambati, che ovviamente ha rappresentato un po' con la sua storia. Partita proprio da Pescara, il punto centrale di questa cerimonia. Abbiamo visto prima il servizio con l'intervista che abbiamo realizzato proprio sulla cerimonia che si è tenuta al porto turistico nelle aree della Camera di Commercio di Pescara. Abbiamo visto l'intervista con il presidente della Camera di Commercio pescarese, Daniele Becci. E poi altre notizie. State da salvare la condotta di K15 dell'Aca appesa alla sovrintendenza. E poi dalla parte destra della pagina, tour dei ponti, sicurezza zero per chi va in bici. Ancora avanti siamo alla pagina dell'Aquila. Il centro è una latrina dopo il weekend. Bottiglie vuote, cartoni di birra e bicchieri ovunque. E poi balconi crollati per colpa del Comune. Nuove dichiarazioni di Bertolaso, Raleprica di Cialente e di Stefano. Poi provincia, appalto strade nei guai, nuovi guai per l'ex direttore. Poi il caso, la cronaca restata un camorrista in soggiorno obbligato. In città poi lo sport, rugby di serie B Paganica e Avezzano KO. Giornata da dimenticare per le due compagini aquilane. Poi invece palla a volo serie D, il Torrione-L'Aquila. E nei play-off le ragazze di De Re hanno chiuso con un ottimo. Terzo posto, siamo alla pagina di Avezzano, Sulmona, il punto nascita non chiude il rilancio. Il reparto resta fin quando non ci sarà una copertura del territorio. Soprattutto con l'elisoccorso, 24 ore su 24. Ancora Sulmona, incidente in coma, i due ragazzi rimasti e feriti nei giorni scorsi. Marsica spaccia cocaina ad un giovane arrestato, un 58enne. E poi Avezzano, quattro comuni al capezzale del Salviano. Ancora Cronaca, Prato-La Peligna, studente aveva a casa banconota falsa. E poi Tagliacozzo, oggi il riesame. Parliamo dell'inchiesta dei giorni scorsi, proprio nel piccolo centro marsicano. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Chieti, del messaggero. Si parla di lavoro, di occupazione, l'apertura di pagina riguarda la Tales. Tavolo deserto, aziende e sindacati non vanno a Roma. 21esimo giorno di presidio davanti allo stabilimento. I lavoratori chiedono aiuto a tutti i metalmeccanici abruzzesi. E poi D'Alfonso lancia menna e fa la corte all'audazzi. Parliamo delle amministrative di vasto. La protesta a Lanciano, Biomasse e i sindaci frentani guidano la marcia per il no. E poi in basso, disabili gravi, vertice sulla legge in regione con il papà di Noemi. E poi Ortona, laboratori e incontri, la biblioteca, ospita i bimbi. E siamo a Teramo. Ospedali unificati, studio di fattibilità ai soldi di Giulianova per un presidio provinciale baricentrico. E poi brucia, tirri in galleria, traffico caos sull'A14. Ancora Giulianova, invece, patrimonio, botta e risposta tra sindaco e Cinque Stelle. Giulianova chiude nei bagni pubblici. Water lasciato davanti alla chiesa. E poi al roseto degli Abruzzi, successo della pedalata. Notriv, tutti i comuni della costa interessati all'iniziativa ambientalista. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Allora possiamo ripartire dal quotidiano il centro. Perché, ovviamente, essendo oggi lunedì, diamo grande spazio proprio alla pagina sportiva. in questa seconda parte di Mattino 6. Partiamo dalla prima pagina dello sport del centro. Titoli principali che riguardano la Serie B. Pescara e Lanciano, sette finali. Cammino e prospettive di Biancazzurri e Rossoneri nella lotta play-off per non retrocedere. Andiamo dunque avanti. In queste due pagine si parla della Serie A con i risultati della giornata di ieri. Napoli-Verona 3-0, un tris alla formazione Veneta senza Igain. Inzaghi esordio super, la Lazio passa per 3-0 a Palermo. Potrebbe tornare oggi Ballardini sulla panchina dei Rosanero. Poi il derby toscano, risorge l'Empoli. Buio per la Fiorentina, l'Empoli dell'Abruzzese. Giampaolo che batte i Viola per 2-0. Poi Torino-Atalanta 2-1, il Torino ritrova la vittoria in casa. Sampdoria-Udinese 2-0. Sampdoria ha un passo dalla salvezza. E poi Juventus scudetto in tasca. Nel futuro si ha Berardi, attuale centrocampista del Sassuolo di Eusebio di Francesco. E siamo alle pagine di Sport regionale. Partiamo dal Pescara. Aresti, musica e parate. Cantando sei un mito, il portiere eroe ad Avellino. E' tornato il Pescara che fa sognare, ha detto Aresti. Noi a proposito della gara di Avellino, al 91esimo della sfida del Partenio, abbiamo ascoltato il centrocampista del Pescara, Alessandro Bruno, autore di un'ottima prestazione, così come tutti i suoi compagni di squadra. Una partita particolare ci tenevo tanto a fare bene. Per me era un derby, è andato bene, abbiamo vinto, abbiamo disputato una buona gara, abbiamo saputo soffrire nella prima parte del secondo tempo, abbiamo sofferto. Ci siamo ricompattati e abbiamo, secondo me, disputato una grande gara. Il primo tempo abbiamo fatto bene, anche la seconda parte del secondo tempo abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco in mano. Abbiamo vinto una partita, secondo me, meritata. Sono queste le partite che fanno al caso di Bruno? Sono tutte le partite che fanno al caso di Bruno. Io sono a disposizione del mister, il mister quando decide di farmi giocare è libero. Io sono a disposizione, cerco di dare sempre il massimo quando vengo chiamato in causa. È andata bene, sono contento, abbiamo vinto. Adesso pensiamo subito alla partita della settimana prossima, che è uno sconto diretto e ci teniamo a fare bene. Pescara che la settimana prossima giocherà ancora in notturna, ancora di venerdì alle 21 allo Stadio Adriatico contro il Cesena. Ancora Pescara, maglia speciale contro il Brescia. La società in questo modo festeggerà gli 80 anni del club Pescara nato nel 1936. Poi Oddo in cattedra, la testa fa la differenza, il gruppo si gestisce con positività ed eliminando le mele marce la lezione del tecnico ai manager della Toyota. E siamo a Lanciano, la corsa a salvezza giorni decisivi. Prima la penalizzazione e poi lo scontro salvezza. Giovedì a Roma si discuteranno i deferimenti a carico della Virtus Lanciano. Nel frattempo il tecnico Maragliuro dovrà inventare la difesa per la sfida di sabato prossimo a Latina. E poi in basso di Filippo, il difensore prodotto del bivaio rosso-nero, che dice rimbocchiamoci le mani che forse contro Lentella ci è mancato. Un pizzico di cattiveria. Vediamo il servizio che fa il punto della situazione in casa frentana. Voglio sottolineare la prestazione dei ragazzi che a parte i primi minuti di blackout dopo hanno giocato come devono giocare dobbiamo rialzare subito la testa e pensare subito a Latina che è quella cosa più importante perché ci sono ancora delle partite a giocare e sono convinto che con questo spirito ce la possiamo fare. La penalizzazione, io ripeto, il Lanciano è andato dritto su due scadenze riguardanti la parte dei tributi ai giocatori. Quella è la scadenza di ottobre e la scadenza di dicembre. Il resto è stato tutto quanto interamente pagato. Quindi soltanto queste due scadenze che cercheremo di rateizzare perché purtroppo alcuni moduli dell'agenzia dell'età non ancora escono quindi non possiamo ancora farlo. Quindi su tutto l'allarmismo che vedo dovrebbero essere due i punti di penalizzazione che potrebbero esserci inflitti ma noi abbiamo le nostre ragioni perché io spero già giovedì non ci siano dati. Però c'è un tribunale che giudicherà e poi nel caso faremo appello perché crediamo di avere le nostre ragioni. Poi ci sono gli avvocati che ci stanno andando e io sono stanco di ripetere questa cosa perché lo stiamo dicendo dall'inizio anno si sono fatte delle scelte che dovevano farsi. Quindi non cadiamo dalle nuvole ogni volta a parlare di questi punti perché se ci saranno ci saranno e saranno due punti in più da fare. Sono sette partite e i punti in palio sono tanti. Grazie a tutti. Si gioca la festa anticipata in forse Moreo. Proseguiamo e siamo ancora alla Lega Pro all'Aquila. In questo caso scese in campo ieri. Prato resta tabù. L'Aquila ha paura. 3-2 il finale del lungo Bisenzio per la formazione toscana e dopo gara infuocato in casa rosso-blu la dirigenza ordina squadra in ritiro. Nota della società pesante confronto con calciatori e staff tecnico. L'analisi di Perrone si rivive a più cinismo. Quante occasioni sprecate. L'Aquila è in crisi. Nelle ultime sette partite la formazione rosso-blu ha raccolto. Pensate, la miseria di tre punti. Vediamo il servizio. L'Aquila stecca ancora. Il discorso salvezza si complica. La squadra di Carlo Perrone esce sconfitta 3-2 anche nello scontro diretto di Prato. Subendo la gancia in classifica proprio dei Lanieri la vittoria oramai manca da sette partite ed è la quarta trasferta consecutiva nella quale l'Aquila torna a casa senza punti. Invertire la rotta è fondamentale per centrare la salvezza diretta e per farlo è necessario limitare il numero spropositato di errori commessi tanto in difesa quanto in attacco. Basti vedere come dopo sette minuti Pesoli non al massimo della condizione sbagli il rinvio agevolando il vantaggio del Prato con la botta ravvicinata di Benucci su assist di Corvesi. Una conclusione che non dà scampo a Scotti. Con Maccarrone out per squalifica e Milicevic infortunato Perrone fa debuttare Chiri eletti e sceglie De Sousa al posto di Perna. L'Aquila troverebbe il pari con Benzaia ma Viotti di Tivoli annulla per un fuorigioco che le immagini dicono non esserci. Poi inizia la fiera dell'errore nei pressi della porta dell'estremo di Casa Rossi graziato da San Domenico che scheggia il palo poi il furetto partenopeo prova a saltare Rossi che con un guizzo gli soffia il pallone quindi De Sousa tu per tu col portiere toscano anziché servire per il comodo 1-1 San Domenico conclude in prima persona e sbaglia. Nel finale di tempo ancora San Domenico fa tutto bene fino al momento del tiro quando viene murato dall'estremo Laniero. Troppi sbagli che l'Aquila paga ad inizio di ripresa quando Perrone effettua un doppio cambio fuori Pesoli e De Francesco dentro un altro debuttante come Bruno e Triarico ma il Prato raddoppia al sesto sugli sviluppi di un corner Capitane Ghinassi benché trattenuto in tuffo riesce a incornare Scotti si fa sorprendere ed è 2-0 Prato neanche il tempo di smaltire la seconda botta che l'Aquila incassa anche il Tris al decimo Ogunseie inserito dopo l'intervallo al posto di Regolanti sfrutta le praterie lasciate dall'Aquila salta Scotti che fa 3-0 la partita sembra finita ma toccato il fondo l'Aquila si rideste e al diciannovesimo va a segno con la Pantera De Sousa che di testa corregge il traversone di Chirieletti e mette la palla all'incrocio 3-1 Perrone gioca anche la carta di Mercurio al posto di Bulevardi ed è ancora Chirieletti il protagonista di un assist stavolta involontario ma comunque efficace per San Domenico che fa centro a 10 minuti dalla fine all'ottantaseesimo Bruno stende così Gaiola in area di rigore penalty che Gabbianelli calcia alle stelle nei minuti finali l'Aquila ci prova ma vanamente la sconfitta si materializza ed ora squadra in ritiro nelle ultime 4 gare con 3 sconti diretti non sono più ammessi passi falsi questo è il servizio di Andrea Costantini sulla sconfitta dei ragazzi di Perrone a Prato noi prima di parlare di Serie D andiamo a vedere le prime pagine dello sport del messaggero ripartendo dalla Serie B dal Pescara io scommetto sul Pescara Sansovini giocatore amatissimo dei tifosi oggi a Cremona spinge i biancazzurri questo è un campionato in cui tutto è possibile la squadra di Oddo arriverà fino in fondo la crisi causata dagli infortuni e i cambiamenti forzati una piccola flessione atletica detto Sansovini era inevitabile ma ora si vola e si guarda la gara di venerdì con il Cesena se Zampano non recupera toccherà ancora a Ventola gli avversari Cascione Ragusa e Eccone la carica degli ex 3 ex biancazzurri con il dente avvelenato sulla strada del Pescara nella gara di venerdì poi si parla di motociclismo in basso Iannone e terzo primo podio stagionale e primi 16 punti per il pilota originario di Vasto e siamo a Lanciano fondi dagli Emirati la squadra ritorna nella zona pericolo mister Maragliu lo dice niente accusa agli arbitri ci serve il gioco più degli alibi intanto Abdallah Ravè il grande mediatore con l'Italia conferma l'interessamento in settimana la decisione sulla penalizzazione avevamo ascoltato qualche istante fa l'amministratore delegato del Lanciano Guglielmo Maio che vedete anche nella foto e poi la squadra difesa da inventare per la trasferta di Latina mancheranno in terra Pontina Amenta e Aquilanti e sicuramente anche Boldori i primi due squalificati il terzo infortunato poi basket a fondo pagina per la Progers confitta a testa alta 78 a 74 a Verona parliamo di Serie A2 e poi l'Aquila Colapicco Perrone è in bilico abbiamo visto il servizio di Andrea Costantini sul 3 a 2 con cui il Prato si è imposto sugli Aquilani dirigenti furibondi squadra subito in ritiro l'abbiamo ascoltato anche nel servizio un duro confronto a fine gara in terra toscana tra società tecnico e giocatori e poi Perrone che dice non dovevamo fare un primo tempo così e poi ancora Lega Pro in questo caso il Teramo Vivarini resto a Teramo dipende dai programmi ha detto l'attuale trainer della formazione Biancorossa siamo al campionato di serie di Chieti splendido Tris la Miternina si arrende ai Neroverdi basta mezz'ora per chiudere i conti grazie alle reti di Dos Santos Riccucci e Comini Aquilani praticamente retrocessi andiamo dunque a vedere nei riflessi filmati il 3 a 0 del Guido Angelini nel servizio di Valeriano De Angelis I due passi falsi registrati nella precedente domenica dal Chieti e dalla Miternina hanno spento le residue speranze per le compagini abruzzesi di raggiungere gli obiettivi prefissati per la Coriacea squadra aquilana nata nel 1972 si profila il ritorno nell'eccellenza abruzzese mentre per i teatini sarà necessario iniziare a programmare con tempismo il futuro calcistico la cronaca evidenzia l'irruenza di Neroverdi che al quarto siglano il vantaggio grazie all'incornata di Dos Santos sugli sviluppi di un calcio d'angolo salutare avvio dei Neroverdi che profittano del ricorrente appannamento degli ospiti che non presidiano le zone degli avversari che raddoppiano il vantaggio con un'azione dialogata e finalizzata da Ricucci Aquilani in ginocchio che con ogni sforzo cercano di equilibrare il gioco ed aggiustare la disposizione tattica ma i padroni di casa hanno vita facile nell'insistere nella penetrazione e al trentesimo è ancora mossa facile per i teatini Comini sigla in scioltezza la terza rete la Miternina non azzera la propria combattività che l'ha sempre contraddistinta e così auspice la ricorrente distrazione del Chieti nel presidiare gli spazi difensivi si crea la possibilità per infilare la rete neroverde colpendo un palo con Torbidone al quarantaquattresimo il signor Francesco Foresta sereno e lineare nell'evidenziare le infrazioni fischia la fine della metà della gara che riprende senza alcuna sostituzione con il Chieti ordinato nell'amministrare il cospicuo vantaggio e la Miternina volenterosa ma piuttosto spuntata prima sostituzione dell'incontro al diciassettesimo negli spogliatoi sbardella al suo posto il neroverde De Queroz al venticinquesimo un'occasione per gli Aquiliani ma Torbidone non intuisce ed è appannato nella finalizzazione Chieti in velocità studiata al trentasettesimo calcio di punizione che sorprende le postazioni difensive dei giallorossi a sorpresa destabilizzati ma non infilati per la quarta volta la curva Volpi in attesa dei tre minuti di recupero tira fuori l'incitamento per sostenere il convincente successo degli uomini di Marino bravi nel gioco palla a terra meno la squadra di Di Felice la cui gara è stata inficiata dai consueti errori Avezzano tre punti d'oro per la salvezza contro la Folgore al De Marsi finisce 2 a 0 per i ragazzi del tecnico Lucarelli le reti ad inizio di ripresa al terzo censorio al quindicesimo men andiamo a vedere cosa è accaduto ieri ad Avezzano con una prova non spettacolare ma molto concreta l'Avezzano conquista tre punti d'oro contro la Folgore Veregra mettendo una serie ipoteca sulla permanenza in serie D al De Marsi gara a due facce con un primo tempo di marca ospite ed una ripresa tutta dell'Avezzano con un avvio di secondo tempo micidiale che ha permesso ai biancoverdi marsicani di chiudere la pratica in 12 minuti grazie alle reti di censorio e menna l'avvio è equilibrato con gli ospiti determinati a concedere poco spazio ai padroni di casa e così è lo spettacolo a risentirne con il gioco che ristagna soprattutto nella zona di centrocampo e con i due portieri praticamente inoperosi fino al diciannovesimo minuto quando c'è un'occasionissima che capita sui piedi di Pedalino che conclude quasi a botta sicura trovando l'ottima respinta di Davino che poi sul proseguimento dell'azione para a terra anche il tiro ravvicinato dell'avanti ospite la folgore più propositiva e al ventinovesimo è gentile ammirare dai 22 metri l'angolino concludendo però a lato e la formazione di Fabrizio Grilli a fare la partita e a sfiorare ancora il vantaggio al trentanovesimo sempre con Pedalino che dalla distanza cerca di piazzare la sfera che finisce di un soffio al lato della porta difesa da Davino i minuti finali del primo tempo vedono poi al 45esimo le proteste ospiti con una caduta a terra in area marsicana di Padovani con Meocci di Siena che lascia però proseguire inizio di ripresa scoppiettante con il gran gol al terzo minuto di Censori che mette il pallone all'incrocio dei pali per l'1-0 gli ospiti non ci stanno e al quinto è ancora Davino a dire no a Pedalino prima del salvataggio quasi sulla linea di Tabacco ancora Folgore minacciosa al settimo minuto ma la concretezza è la dote migliore dell'Avezzano di oggi e così al quarto d'ora arriva il raddoppio di Menna realizzato in mischia di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la Folgore Veregra è un colpo pesantissimo dopo un buon primo tempo i biancoverdi spinti da tifosi della Nord continuano ad attaccare e spiorano il Tris al 22esimo con un tiro di poco alto di Pollino i marchigiani tentano il tutto per tutto e vanno ad un passo dal 2 a 1 con Davino che dice no anche ad un colpo di testa ravvicinato del neoentrato Cico al 31esimo grazie anche alla collaborazione del Palo il finale vede al 41esimo l'espulsione di Censori per una frase irriguardosa verso la terna arbitrale e poi la festa marsicana per la conquista di una vittoria che ha il sapore della salvezza anticipata per i marchigiani ci sarà invece ancora da soffrire San Nicolò Recanatese spareggio per i playoff si gioca in posticipo questa sera alle 20 e 30 la sfida fra i ragazzi di Epifani e la formazione marchigiana San Nicolò che in caso di vittoria sorpasserebbe la formazione leopardiana e poi in basso parliamo del Giulianova che domina ma al Castelfidardo basta un tiro per aggiudicarsi la gara giallorossi praticamente retrocessi andiamo a vedere il servizio con la sconfitta di Castelfidardo il Giulianova dice addio al campionato di Serie D solo la matematica tiene in vita i giallorossi apparsi rigenerati da quando è arrivato in panchina Ugo Dragone i fidardensi invece credono ancora nella salvezza diretta senza passare dai play out la corsa è sul Monticelli gol vittoria firmato da Massimo Ganci che a gennaio era in procinto di vestire proprio la maglia del Giulianova una sola palla toccata dall'attaccante quella giusta per regalare tre punti pesanti è stata una gara comunque giocata male dai padroni di casa al cospetto di un avversario per nulla remissivo nonostante l'ultimo posto in classifica anzi onore agli abruzzesi che hanno lottato per tutto l'incontro anche quando nel secondo tempo sono rimasti in dieci per l'espulsione di vita la squadra di Dragone avrebbe meritato di chiudere la prima frazione di gara in vantaggio almeno di un gol primo quarto d'ora aggressivo per il Castelfidardo ma piuttosto confusionario ospiti più ordinati e ben disposti da Dragone nella fase di interdizione Pellecchia viene abbattuto al ventesimo in area avversaria inutili le proteste degli abruzzesi che poco dopo potrebbero sbloccare il risultato Giampaolo pesca bene Emili che si presenta solo dinanzi al portiere Chiodini sporca il tiro deviando in corner la reazione dei biancoverdi è nel tiro di Liberati che non inquadra lo specchio della porta poco dopo la mezz'ora scontro tra Chiodini ed Emili Giulianova che alza il piede dall'acceleratore Liberati al trentasettesimo manca nuovamente il bersaglio sugli sviluppi di un calcio piazzato nella ripresa all'episodio chiave Vita entra scoordinato su un avversario e il terzo minuto secondo Giallo è doccia anticipata guarderà l'evolversi della gara dagli spogliatoi così come il gol di Ganci che arriverà al nono sale in cattedra Chiodini che in almeno tre circostanze negherà il pareggio ai giallorossi mentre Liberati al ventisettesimo si vede respingere da proietti una rasoiata da posizione defilata al trentottesimo e al quarantottesimo Giuliesi ancora vicini al pari ma non è giornata al triplice fischio le lacrime di Silvestri per una partita di grande carattere ma dal risultato negativo esempio di una stagione tutta da dimenticare siamo al campionato regionale di eccellenza dalle pagine del centro una giornata quella di ieri che ha fatto registrare ancora un pareggio della capolista vastese 1 a 1 a San Buceto e ne approfitta il paterno che batte nettamente per 4 a 1 il Migliani con formazione marsicana che si è portata a meno 1 dalla capolista dunque tutto in gioco per quanto riguarda proprio il campionato regionale di eccellenza che vive soprattutto su questo duello tra vastese e paterno la prima ricordiamo salirà direttamente nel campionato nazionale di serie D andiamo ancora avanti con il calcio direttantistico ci sono queste pagine dei campionati di promozione poi arriviamo al basket la Serie 2 con Roseto che piega Ravenna per 85 a 70 grande festa in casa rosetana al Palamaggetti per una vittoria che vale i playoff parla Trullo e dire che eravamo partiti per salvarci il Chieti sfiora il colpo in casa del Verona vince la formazione veneta per 78 a 74 Chieti però praticamente salvo vediamo in questo specchietto anche gli altri risultati Legnano Imola 74 a 60 Matera Ferrara 82 a 88 Brescia Treviglio 76 a 63 Fortituto Bologna Recanati 99 a 77 Mantua Treviso 70 a 68 Trieste Iesi 83 a 64 vedete la classifica Mantua 42 Treviso 40 Brescia 38 Roseto quarto in classifica con 36 punti vediamo anche il prossimo turno che vedrà per quanto riguarda le abruzzesi Roseto giocare a Recanati Chieti in casa con il fanalino di coda Matera a proposito di basket siamo alla serie B Pescara dodicesimo sigillo Biancorossi che hanno battuto al Paleletra per 83 a 73 Falconara Ortona vince per 84 a 70 con Valmontone e Giulianova che perde a Martina Franca per 60 a 52 dunque rinviato il discorso salvezza infine il Campli che espugna nel derby per 64 a 67 il Parquet del Vasto siamo in chiusura cross del mare a grande il titolo regionale Wisp parliamo di podismo e poi chiudiamo con il rugby Cocchiaro l'Aquila devo batterti eccellenza l'ex avanti nero verde venerdì sarà in campo da avversario con i Lions per la gara che vale la salvezza siamo dunque giunti al termine della rassegna stampa del lunedì con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo alle 14 con la prima edizione del TG6 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti